Dwight D. Eisenhower, nato il 14 ottobre 1890 a Denison, Texas, è stato uno dei più importanti leader militari e politici del ventesimo secolo. È stato il comandante supremo delle forze alleate in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale e in seguito è diventato il 34esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Eisenhower ha avuto un'importante carriera militare prima di entrare in politica. Ha frequentato l'Accademia Militare di West Point ed è stato un ufficiale di talento, distinguendosi per la sua leadership e la sua abilità strategica. Durante la Seconda Guerra Mondiale, ha guidato con successo le forze alleate in importanti operazioni militari, come lo sbarco in Normandia nel 1944. La sua abilità nel coordinare le diverse forze alleate e nel prendere decisioni cruciali ha contribuito in modo significativo alla vittoria degli alleati. Dopo la guerra, Eisenhower è diventato una figura di spicco nella politica americana. Nel 1952 è stato eletto presidente degli Stati Uniti con il Partito Repubblicano, sconfiggendo il candidato democratico Adlai Stevenson. Il suo mandato presidenziale è stato caratterizzato da importanti sviluppi nazionali e internazionali. Ha promosso politiche di modernizzazione e sviluppo economico, sostenendo progetti infrastrutturali come la costruzione di autostrade e investendo nella ricerca scientifica e tecnologica. Dal punto di vista internazionale, Eisenhower ha affrontato sfide cruciali come la guerra fredda e la minaccia nucleare. Ha adottato una politica di contenimento nei confronti dell'espansione comunista e ha promosso alleanze internazionali per contrastare l'influenza sovietica. Inoltre, ha sostenuto lo sviluppo di armi nucleari come deterrente contro potenziali aggressioni da parte dei nemici degli Stati Uniti. La presidenza di Eisenhower è stata contraddistinta anche da importanti iniziative in campo sociale, come la promozione dei diritti civili e l'adozione di politiche per migliorare le condizioni di vita delle minoranze etniche. Ha sostenuto la desegregazione delle scuole pubbliche e ha promosso l'uguaglianza di diritti per tutti i cittadini americani. Dopo due mandati presidenziali, Eisenhower ha lasciato l'incarico nel 1961, ritirandosi a vita privata. È stato un leader rispettato sia a livello nazionale che internazionale, riconosciuto per la sua integrità, la sua capacità decisionale e il suo impegno per il bene comune. È stato uno dei protagonisti della storia del XX secolo, lasciando un'eredità a duratura sia nel campo militare che in quello politico. Dwight D. Eisenhower è stato un uomo di grande carisma e determinazione, capace di affrontare sfide complesse con coraggio e saggezza. La sua leadership ha lasciato un segno indelebile nella storia degli Stati Uniti e del mondo intero, dimostrando come la determinazione e la visione possano portare a risultati straordinari. La sua figura rimarrà per sempre un esempio di leadership e dedizione al servizio pubblico.